ciao a tutti io sono francesca e sono in compagnia di china e di sua figlia maya che sta in giro da qualche parte siamo qui a zoo marine in una splendida giornata di marzo e volevo togliervi una bella curiosità maya ancora prende il latte dalla sua mamma e lo farà ancora per un bel po perché dovete sapere che i delfini sono molto legati alla mamma rispetto ad altri animali infatti prendono il latte anche fino ai due anni a breve iniziamo lo svezzamento infatti stiamo iniziando ad introdurre i primi pezzettini di pesci vediamo come reagisce per ora ancora non mangia ok ma vogliamo vedere dove prende il latte guardate adesso con l'aiuto di china vi farò vedere dove sono le ghiandole mammarie ecco qui queste due fessure piccoline sono le ghiandole mammarie da dove maya prende il latte questo perché perché delfini sono dei mammiferi vero china si matti in cinque ragazzi io china e maya che sta nuotando vi salutiamo mi raccomando mettete un like scrivete un vostro commento e vi aspettiamo sul nostro canale di youtube ciao iscrivetevi mi iscrivetevi mi raccomando ciao ciao